È un parcheggio di tre piani, 1400 posti circa, abbiamo tutti i servizi proprio perché quello che andiamo a cambiare è proprio l'idea del pensiero. Il pensiero di parcheggio da semplice area per la sosta a area multimodale dove trovare tutti i servizi ancillari rispetto a quello che è la sosta normale. In questo potete trovare l'inclusività, posti rosa, quindi stalli per le persone, le mamme in gravidanza, persone di tutta mobilità, stalli gialli, persone per la ricarica di auto elettriche, quindi abbiamo colonnine elettriche e molte altre. Questo è proprio il cambio di pensiero che noi abbiamo, di trasformazione da un parcheggio a un hub, un parking hub, quindi un hub multimodale pieno di servizi aggiuntivi rispetto alla sola sosta. Abbiamo visto degli accensioni, ma cosa cambia? L'accessibilità cambia l'accesso diretto alla mobilità urbana, quindi al trasporto pubblico locale, quindi il collegamento diretto con i marciapiedi per i treni e il collegamento tra ferro e gomma. Quindi una inclusività e anche accessibilità, maggiore accessibilità rispetto a quello che è l'accessibilità al trasporto ferroviario. Sarà più facile prendere i treni? Assolutamente sì.